strada pedemontana veneta sì allora mi ha chiesto di introdurre il biglietto e attendere ok adesso proviamo a cambiare la lingua e voglio lo spagnolo introdurre il biglietto e attendere vai con lo spagnolo ma scusa ha cambiato l'accento così ha cambiato solo l'accento english non va cioè ha detto introdurre il biglietto e attendere ma cos'è sta roba riproviamo in italiano ci siamo lingua corretta pronuncia corretta e in spagnolo abbiamo capito cambiano solo l'accento ma non la lingua complimenti alla strada pedemontana veneta